Con il nostro pallone, ovviamente un regalo da parte della federazione brasiliana, noi siamo del rugby, non ci mettiamo neanche nelle polemiche del calcio, neanche l'attualità, quello che sta succedendo adesso in questo mondiale mondiale in Brasile. Questo è il pallone che ci hanno donato, noi siamo fieri anche di averli qui nel nostro fortino del Fiumicielo, giustamente il Fiumicielo che il privilegio, la priorità è il rugby dei giovani, quindi momento di presentare la seconda parte del camp Leicester Tiger a Calvisano. Dovete osservare le gambe, le gambe sono fondamentali per questo esercizio perché danno la possibilità di restare sempre in equilibrio, vediamo. Testa e gambe. Come vedete si lavora nella destrezza, la destrezza di tutti i giocatori, non tanto nel movimento del gioco, sino in ogni situazione il modo migliore, più efficiente, più efficace per giocare. Velocità. Demonstrazione. 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 Ok. Go. Clear. Clear. Ok. Hop. Here. Hop. Here. Hit. Right, right, right. Latera. Le round, le round. No, 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 no. Solo, solo in quello, solo in quello senza sacco, dovete lasciare la palla con la zona di terra. Vediamo l'esercizio di impatto, vediamo. Are you ready, boys? Clavio! 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 Height's all. Be this way. Ready? Go! Bravo, Clavio! Height's all. 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 Go. That's OK. You hit it! More power! Bravi! Molto più potente! Così si fa! Bravi! Avete sentito? Boom! Ready? Ready? Bravo! Ready? Brava! Ready! Ricordatela eh! Così! Bravo Flavietto! You've worked hard this morning, So... Very important! In everything we do in contact, whether we are defending or attacking, is we win the contact, so we win the collision. Vincere il contatto! In ogni momento in cui date contatto, su ogni contatto, voi dovete avere il contatto vincente, cioè dovete vincere il contatto, o portavamo via, o riuscire a recuperare la spalla. Chiaro? Yeah! And we hit! Dobbiamo andare a colpire prima con la spalla. Lo ricordate? With our shoulders. Not... Non con le mani. Yeah, not our hands. We also wrap. And sure would be very good. Very, very good. Wrap, drive, squeeze. Dobbiamo prendere, arrivare di spalla, prendere... Come lo chiamate quelli? Chiaro? Chiaro. Stringere forte. Up and... Una noce. Sì! Una noce. Esatto. Esatto. Good. And we don't leg up until we're ready. Ok? Sì! Sì! Ideally, in a tackle, the best is we tackle and we stay on top. When you're going to play, the important thing after you've done the play, you have to stay on top. Ok? Stay on top. Sopra the opponent. If you're on top, if you're on top, we can get up first. Get to our feet first and carry on. too many players use a tackle for a rest. And at the top level, there's no time to rest. So you tackle, you get up, you get there, you play again, you tackle another person. So tackling is not an excuse for a rest. to me, It's not an excuse for be a tackle. To be careful. If you're at high level, the tackle will be able to recover the ball and try to do the best, and to try the best. To do the most quickly as possible. Ok? Ok. But the most important part of tackling, what is it? The most important? The contact with the shoulder. Using the shoulder and carrying the breast. But what do you need? So what answers? What answers do you have? Avanzare se ne prende più. Per fare che cosa? Per mandare indietro la mano. E a che cosa serve sta palla? Per fare meta. Per fare meta. Per provare? Sì? Dovete volere, eh? Se voi non volete fare la meta, allora non andate neanche a fare il placcaggio e recuperare la palla. Fate solo il placcaggio e lasciatevi il pallone. Il vostro obiettivo finale qual è? Fare? Mezzo. Quando avevo la vostra età, lui voleva fare una cosa sola. Baccare tutti per recuperare tutti i palloni possibili e per fare più meta possibile. Anche voi? Sì. Come via no? Sì, 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 è una buona gioia qui, ci siamo davvero piaciuti, i coachs hanno stato molto impressioni con l'aiuto brillante, con le persone che abbiamo sull'interno, che rendono molto semplice per noi. Sì, ci troviamo bene e riusciamo anche a comunicare molto bene con i ragazzi. L'ultima domanda, se trovate qualche ragazzo con futuro interessante, lo potete anche recuperare? Credo di sì, ma lo chiediamo direttamente a lui. Se vedete un giro, un giro molto buon giro, pensate che veniva? Sì, è davvero molto buono, vediamo molti talenti e recentemente abbiamo avuto 4 persone con noi da Italia, Giroldini, un giro che ha signato per noi, ci sono sicuramente molti, abbiamo Tiziano Pasquale in nostra squadra, Riccardo e molti altri giocatori italiani, quindi sì, siamo molto interessati. E ne hanno visti 4 di questi, in cui ha detto il nome prima. Sì, infatti hanno reclutato Giroldini, c'è questo ragazzo qua Pasquali. Sì, Pasquali, lo stava dicendo, ce ne sono molti e loro sono proprio interessati a venire qua a fare attività, perché sia il nostro interesse migliorare, che il loro interesse avere possibilità di recuperare giocatori buoni. Riccardo, approfittiamo e mandiamo un saluto ai tuoi amici di coloro, no? Ok, vi voglio dire che mi mancano e spero di rivederli tutti l'anno prossimo. E tu sei di coloro o sei francese, perché hai un accento un po' particolare? No, no, coloro, coloro. Ma sto scherzando, infatti avete la... Io saluto, approfitto e saluto mio amico Michele Mordacci, lo conosci Mordacci? Il mio allenatore è molto bravo. Infatti anche il mio carissimo amico, un saluto per te. Hasta la vista Michele. I ragazzi più grandi sono in questo momento con i due allenatori dei Tigers, facendo ovviamente le skills riguardanti al passaggio. Qui ci ritroviamo anche con il solito discorso della comunicazione, quello che sta chiedendo di questo coach inglese, parlare sinistra, destra, vediamo. Pulire, pulire, pulire. Pulire, 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 pulire. Spazio, spazio, chiede. Se apre si lancia ancora. Si parla, si riparte. Pulire, si arrabbiate un po' con Luca che ha fatto in avanti. Un altro in avanti, ragazzi, più applicati. Mani, 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 chiede. Ancora. Pulire. Stai dicendo che questo no, non è buono quello che hanno fatto, non è buono. E l'ala deve occupare lo spazio, quindi non è soddisfatto per questa giocata. Non è soddisfatto per questo esercizio. Ma le mani in alto, hands up. Pulire, 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 pulire. Ancora, pala terra. Pulire. Tre quarti. Pala terra. Movimento. Un altro in avanti. Del stress individuale ci vuole di più. Io guardavo vostro lavoro. Il più importante, il clave? Il clave è le buone, le sceglie basiche. Per essere capace e passare. Ok. E anche per essere capace e vedere. Ok, sono le cose clave per me. Ok. La comunicazione è molto, molto importante, sì? Sì. Le stesse individuali sono importantissime. Il modo di passare, il modo di entrare nella formazione, il modo di cadere, tutti quelli del stress sono fondamentali. Com'è fondamentale anche la comunicazione perché devono anche parlare al momento giusto e essere efficienti, efficaci per quanto riguarda comunicare quello che succede in campo. Ristrutturiamo. Arrediamo. Hai ristrutturato? Stai ristrutturando? Devi ristrutturare? Entro il 31 dicembre puoi mobilitare. Vieni a scoprire il bonus del 50% di sconto sull'acquisto dei mobili per chi ristruttura. Scopri i dettagli su www.ostiliomobili.it. Ti aspettiamo a Capriolo-Brescia, autostrada A4, uscita Palazzolo.